Open Day a Letys Marconi, i genitori sono venuti per conoscere, per incontrare la scuola, conoscere l'offerta formativa. Parliamo dell'offerta formativa. Allora, Letys Marconi è un istituto tecnico articolato in quattro indirizzi, meccanica, meccatronica ed energia, elettronica e elettrotecnica, chimica e biotecnologie ambientali, informatica e telecomunicazioni. L'offerta formativa ovviamente è molto ampia ed è, diciamo, suddivisa in un biennio comune a tutti gli indirizzi e un triennio di specializzazione. Grande l'attenzione della scuola sia per gli aspetti culturali generali che consentono agli studenti di proseguire gli studi nei corsi universitari oppure nei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, ma anche grande l'attenzione al mondo del lavoro, perché sappiamo che in questo momento in Italia c'è una grande carenza di tecnici specializzati e quindi la domanda del mondo del lavoro su queste figure è veramente molto rilevante. Abbiamo letto proprio recentemente un'indagine del Sole 24 Ore che dice che il 38% dei diplomati degli istituti tecnici trova lavoro entro un anno dal diploma. La scuola offre molto agli studenti anche da un punto di vista strutturale? C'è una bella palestra, tanti laboratori? Sì, la scuola è molto grande, si estende per quasi 11.000 metri quadrati e ha molte strutture a disposizione, appunto la palestra che viene utilizzata anche da altre società sportive del territorio proprio nell'ottica di questa interazione e ovviamente la maggior parte dello spazio della scuola è occupato dai laboratori che sono tanti, diversificati, ricchi di molte attrezzature e che diciamo sono il cuore, il punto forte della scuola perché il laboratorio non solo come luogo fisico ma anche come modalità didattica è il luogo dell'esperienza, è il luogo della prova, della messa alla prova di quello che uno ha imparato.